questa è l'ora solare lo sapete ma sapeste quant'è solare oggi oggi è solare che per essere così solare abbiamo dovuto aspettare che un viaggio di sette ore si compisse completamente cioè che dalla terra di liguria arrivasse una ragazza che ha un'idea per la testa che è riuscita realizzare e cioè quello di diventare da riciclona cito testualmente le sue parole una grande formidabile stilista la signorina italia furlan che già di suo sembra un folletto del bosco una delizia ho detto bene sette ore sì però è piacevole viaggiare in treno non ero più abituata e non è male e dica la verità lei quando viaggia in treno comincia a pensare quella bottiglietta di plastica la potrei far diventare un cappello quello è uno dei miei problemi quello è uno dei suoi problemi e invece vi do una notizia è una delle nostre soluzioni allora questa giovane artigiana con il marchio arti.ficio quindi www andate subito a cercare realizza tutte le cose che ci ha portato qui in studio con puro materiale di riciclo che parte per esempio da che cosa allora i capotti che avete qua sono fatti riutilizzando i gonfiabili pubblicitari quindi ad esempio gli archi delle gare di corsa le maratone no c'è l'arco della partenza quello dell'er quelli gonfiabili d'aria esatto quelli ciccioni esatto che stanno lì lei cosa fa li prende io li prendo li taglio li lavo e confeziono cappotti però il progetto è ancora un pochino più gustoso perché in realtà io ho una partnership con un'azienda che si chiama per aria di cuneo e loro fanno i tessuti con le bottiglie di plastica quindi ho riciclo poliestere riciclato quindi quando io bevo una bottiglia di plastica io so che lei aiutata la partnership tutto quello che lei mi vuole dire è capace di realizzare queste esatto e poi uso anche tanti altri materiali attenzione sono tutti materiali io poco fa ho detto ma mi scusi poi come faccio a lavarli semplici rimette in lavatrice 40 gradi e escono fuori così come io li vedo esatto bene allora quanto le è venuto in mente quest'idea in tanti quanti pochi anni ha lei allora sto per farne 31 sì complimenti grazie ho aperto la mia bottega artistica che ne avevo 18 quindi avevo diciamo le idee molto chiare molte confuse dipende dai punti di vista viva la sua confusione esatto io in realtà lavoro con materiali di recupero da sempre quindi in tempi anche meno sospetti perché lei viene diciamola tutta da una famiglia molto come dire creativa sì sensibile anche sensibile ecco brava sensibile mi piace ancora di più che creativa e quindi lei poco tempo fa cioè a quattro anni per esempio era ieri spero che ve ne rendiate conto ha detto alla mamma io voglio cucire voglio imparare a cucire la mamma invece di dire ma dai piantala lì no l'ha portata a scuola di cucito sì in realtà a quattro anni avevo le idee ancora poco chiare gli ho detto che avrei fatto l'artigiana siamo partiti da lì a otto anni ho espresso il desiderio di iniziare a cucire e mi ha portato da due sarte finite che in gergo vuol dire che sanno sia fare la confezione quindi a livello di macchina da cucire e sia i cartamodelli quindi disegnare i modelli e confezionarli e questo per esempio esatto è un suo un suo cartamodello cioè lei decide di dare vita a qualcosa prima la disegna e poi realizza bene nella creazione di questi abiti di questi accessori perché lo vediamo ci sono cappelli addirittura un grosso fiocco non può essere un papillon quaderni quanto è lunga questa procedura e soprattutto è una procedura che aiuta l'ambiente risposta ovviamente sì perché allora sicuramente sì innanzitutto io vado a recuperare dei materiali che comunque andrebbero smaltiti ok e per quanto smaltiti correttamente sarebbero rifiuti in più ok perché comunque anche il gonfiabile pubblicitario c'è tutta un'altra fila per buttarlo via ma di fatto va gettato invece in questo caso io confezione dei cappottini che sono perfetti per affrontare la pioggia e sono funzionali questi non si distruggono no assolutamente questa è la cosa importante anche da dire sono super resistenti io sono un artigiana ci tengo che quello che faccio duri perché c'è tanto lavoro dentro quindi non la mia finalità è che chi possiede un oggetto fatto con le mie mani lo usi gli faccia piacere lo porti avanti chissà magari lo passa anche i figli se il cappotto le piace particolarmente guardate io oggi sono andata sul sito e ne parlavo poco fa tra l'altro saluto e ringrazio il nostro regista alessandro tresa che sta riprendendo tutto questo quindi vi porta in casa tutto quello che c'è all'interno del nostro studio e mi ha colpito una cosa c'era scritto sul sito pezzo unico questa è una cosa bellissima perché vuol dire che se io non entro in questo pezzo unico gliene devo ordinare uno con le mie misure sì allora io lavoro sia in sviluppo taglia che su misura quindi diciamo però la cosa particolare è il costamento cromatico e quindi come il carattere di ogni persona ogni persona è unica e quindi anche i miei cappotti lo sono il cappotto che stiamo vedendo inquadrato in questo momento questo verde che carattere ha questo l'ho fatto apposta per voi l'ho confezionato verde apposta per voi mi piaceva l'idea di portarne uno verde poi io vabbè in realtà il mio colore preferito anche se amo tutti colori ma e mi piaceva che un po di portarvi un po di prato un po di bosco da casa da casa da fine al borgo questo bianco e nero odrie e buron l'avrebbe indossato senza problemi questa tra l'altro è un modello double face quindi si può indossare anche dall'altra parte e questo è molto in stile della mia mamma quindi ecco perché è molto dedicato perché lei crea giustamente insegue anche uno stile certo punte no deve essere riconoscibile oltre che per il materiale perché della sua mamma perché la mia mamma una donna molto elegante e sono molto fortunata e quindi ogni tanto mi ispiro a lei per le linee per le linee l'altro o è una moto niente non è vero no è viceversa un po più è un po più aggressivo è una manica banana si chiama in sartoria con uno scollo a sciabola che di solito si usa per la modellistica maschile invece l'ho interpretato per le donne lei è vera sì ma perché guardate da sola da sola italia furlan è una produttrice di green cioè di paese più pulito perché lei da sola riesce a fare un riutilizzo che non può diventare fabbrica del riutilizzo però lei dà un'indicazione importante ma se tutti facciamo qualcosa vinciamo di sicuro io sono fortemente convinta di questo però mi ascolti italia io non so ne li posso indossare i vestiti non so se comincio a tagliarli succede una cosa sicura li taglio ma li taglio in una maniera improbabile non è non è il mio lavoro noi cittadini che non hanno non possediamo questo suo talento che cos'è che possiamo fare innanzitutto si può scegliere correttamente e quindi magari prediligere qualcosa rispetto a qualcos'altro quindi con un'ottica di consumo consapevole di attenzione anche da dove viene il prodotto sì e poi ci sono tutte quelle piccole pratiche che da tanti anni ci dicono che basta seguirle quindi attenzione nell'acquisto di imballaggi che non servono è vero che chiudere il rubinetto fa bene l'ambiente è vero che spegnere la luce fa bene l'ambiente bisogna solo essere più attenti adesso vi faccio questa proposta voi aspettateci proprio per qualche minuto vi prometto che non sparisce non è che dopo vi dire ma non guardate è rientrata nel libro di fiabe no no italia forlana è vera anche se la sua casa nel bosco adesso poi ve la racconto è molto singolare molto singolare secondo me gli scoiattoli discutono con lei ci vediamo tra un attimo l'ora solare ma che ragazza l'italia forlana i suoi meravigliosi abiti creazioni cappelli vestiti lei con un viaggio lungo lungo oggi partendo da fino al borgo in liguria arrivata fin qui ci ha potuto portare relativamente parlando poco ma è quel poco che basta perché è tutto materiale di riciclo materiale che poi è bellissimo mi dà un attimo il fiocco sì certo ecco per esempio questa bellezza questa bellezza che è bella al tatto è bella da vedere bella da indossare che cos'era precedentemente questo è un avanzo del mio avanzo quindi è un pezzo di gonfiabile pubblicitario che ho tagliato per confezionare degli abiti mi avanzava un piccolo scampo l'ho usato ancora la usa quindi con lei non si butta proprio via niente no no ma l'ha detto con un tono no assolutamente no e 31 anni vissuti perfettamente bene famiglia che ha secondato questa questa vena artistica e artigiana anche perché insomma in famiglia c'è attenzione a tutto questo no assolutamente sì attenzione all'ambiente e attenzione alla strada che uno vuole intraprendere importante che sia corretta per gli altri anche anche una sorella che cucina sprenditamente bene questo voi capite che per me è un taglio al cuore perché non ci siamo ancora riusciti la sua altra sorella ha fatto falconeria si si è appena è tornata da poco in italia è stata a lanzarote due anni e appunto faceva la falconiera suo fratello è un artista di strada sì che lo vediamo in foto il costume glielo fatto io guardi voglio dire come minimo lei è tenuta a fare i costumi su questo non ci sono non ci sono dubbi ma italia furlan vive con il proprio fidanzato che meraviglia questo costume vede che lei però proprio la lei è proprio una fatina del bosco tant'è che lei effettivamente vive ai confini insomma in liguria è meraviglioso come ti sposti un po' trovi tutto il verde possibile e con il suo finanziato però sta pensando ad un ulteriore laboratorio sì perché il mio sogno è quello di lavorare in un uno spazio vetrato nel bosco quindi adesso sto già lavorando nel bosco perché il laboratorio diciamo principale lì quello dove confeziono però stiamo costruendolo in biodilizia quindi anche lui certo a impatto zero o perlomeno almeno possibile il meno possibile allora questa questo bio che lei mette avanti a tutta attenzione noi parliamo di una casa nel bosco adesso al di là che abbia detto gli scoiattoli chiacchierano con lei ne sono sicura di questo ma questo accade quando noi non vediamo parliamo anche non solo di una creatività da cui lei trae spunto ma anche davanti il promemoria costante del rispetto che si deve all'ambiente così assolutamente assolutamente lo stiamo venenando per bene questo pianeta sì e oltretutto è molto peggio di quello che pensiamo concordo non voglio dare la nota negativa ma di fatto siamo in una brutta situazione e c'è per nostra fortuna chi questa brutta situazione la trasforma per l'appunto in un materiale che certo se poi pensate di se qualcuno maldestramente dovesse perdere o lasciare a terra questo materiale questo materiale rischierebbe di inquinare se rimane a lungo in acqua ma lei ricicla il riciclato del riciclabile riciclato riesco a dire bene questa sua attività che è un'attività importantissima lei la sta portando anche come scuola creando quelli che quelli più bravi di con i workshop comunque lei crea classi lezioni per persone che vogliano intraprendere il suo stesso percorso poi certo serve la sua creatività però sì da dieci anni che lavoro con le scuole quindi mi occupo anche di formazione per i docenti a volte quando mi chiamano e ovviamente lavoro con i bambini che sono come tutti sappiamo il nostro futuro e che sono quelli da educare sono quelli che si appassionano subito molto 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 e sono anche molto veloci nell'analisi nel capire il problema e sono anche molto simpatici e divertenti nel trovare possibili soluzioni e costa quanto lavoro quante ore di lavoro costano a giacca così allora di a livello sartoriale in realtà è un po meno rispetto al tempo che impiego per la lavorazione del materiale e il passaggio che mi impiega più tempo è l'accostamento cromatico perché io prendo tutti i pezzi di gonfiabili differenti e sto attenta in modo che non sembri una pubblicità una reclama quindi devo fare degli accostamenti che sia moda insomma che sia stile ultimo progetto i colori del moto mondiale con aldo drudi perché questa è un'altra sua idea io ho avuto la possibilità di vestire le ombrelline del moto gp per per appunto per la mostra dei colori del moto mondiale che c'è stato a milano e abbiamo voluto entrare diciamo con un piede gentile in un posto dove comunque ovviamente c'è inquinamento perché di fatto c'è però vada con le nuove attenzioni c'è il piacere di far vedere che c'è una soluzione e quindi dare uno spunto a livello proprio di creatività di artigianato ecologico però immaginate italia furlan nella sua casa nel bosco da parte nostra grazie di essere stata allora solare grazie veramente grazie perché da oggi in poi quando vedremo un gonfiabile all'inizio di una corsa o di una maratona sapremo che c'è chi lo rende abito e non inquina